Bingham Bing Madsen vive in una struttura dove si pedala su delle ciclette per alimentare ciò che sta intorno e per ottenere una valuta chiamata merito. Con essi si può personalizzare il proprio avatar e saltare gli annunci pubblicitari da cui sono circondati, ma occorrono anche per qualsiasi servizio quotidiano, dal cibo al dentifricio. Gli obesi vengono considerati cittadini inferiori e lavorano come spazzini attorno alle macchine dove subiscono abusi verbali o vengono umiliati nei giochi a premi. Bing ha ereditato dal fratello 15 milioni di meriti, ma passa le giornate nell'indifferenza totale. Un giorno sente cantare per caso Abby, una donna dalla bellissima voce, e la incoraggia a partecipare al talent show Hot Shots, che offre alle persone la possibilità di uscire da questa realtà simile alla schiavitù per raggiungere fama e ricchezza. Abby tuttavia non ha abbastanza meriti, inoltre teme di non riuscire a cantare bene sotto pressione. Bing la persuade e, convinto che in quel mondo non ci sia nulla d'altro che valga la pena comprare, acquista per lei il biglietto, spendendo 15 milioni di meriti. Quando Abby si presenta per la competizione, viene obbligata, come tutti, a bere una bevanda drogante, e Bing conserva distrattamente la confezione. La ragazza canta egregiamente, commuovendo i giudici e il pubblico, ma la giuria afferma che non c'è più spazio per una cantante sopra la media. Uno dei tre giudici le propone quindi di diventare una porno diva nel famoso programma Raid's Babies, così da non tornare sulla cyclette. Abby, intontita dalla bevanda, accetta la proposta e Bing è distrutto. Egli ritorna alla propria vita con pochissimi meriti, non potendo nemmeno evitare la pubblicità di Raid's Babies con Abby. Furibondo colpisce lo schermo e nasconde un frammento di vetro insieme alla confezione della bevanda drogante. Pedala per mesi risparmiando su qualsiasi cosa, mangiando gli avanzi degli altri e senza saltare pubblicità, fino a comprare un altro biglietto. Quando si avvicina al palco, gli viene ordinato di bere la bevanda drogante, ma dichiara di averlo già fatto mostrando l'involucro vuoto che aveva conservato dalla performance di Abby. Sul palco inizia a ballare, per poi interrompere l'esibizione, e minaccia di uccidersi in diretta con il frammento di vetro nascosto. Piangendo, denuncia il sistema ingiusto ed esprime rabbia per come i giudici gli abbiano portato via l'unica cosa che aveva avvertito come reale all'interno della struttura. I giudici rimangono impressionati dalla sua performance e gli offrono un programma a tutto suo dove può parlare quanto vuole del sistema. Bing accetta, e anche se denuncia gli sbagli e le ingiustizie del sistema, il suo programma è diventato solo l'ennesimo intrattenimento per il pubblico, senza riscontro nella vita reale che scorre identica a prima. Persino il pezzo di vetro che lo ha reso famoso è commercializzato come accessorio alla moda per gli avatar. Tuttavia, Bing, terminata la trasmissione dal suo attico, si dimostra non aver dimenticato a Bing, pur essendosi piegato al sistema.